eccoci qua buongiorno buongiorno grande buongiorno a tutti giovedì 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 come state dormito bene avete fatto aperitivo ieri sera ecco noi sì ce l'abbiamo fatto siamo sopravvissuti abbiamo fatto aperitivo e dopo a casetta però è stato carino ci siamo scambiati i regali cosa hai ricevuto una tazza bravo lo so perché te l'ho comprata io io ti ho preso una bella tazza col coperchio che carino io invece ho ricevuto degli scaldamuscoli e delle calze che non mi hai regalato tu sempre in base a quel gioco strano che ha inventato la Marini la Marini che ognuno faceva un regalo a qualcuno e non si sapeva chi poi abbiamo svelato tutto bene è stato carino si è stato molto carino allora questa mattina parleremo oltre che del nostro aperitivo ecco parleremo dell'abbraccio perfetto che ve lo dico già no ma sarebbe sicuramente meglio di quello di cui vi racconterò perché è di una tristezza infinita poi vi dico poi come sbucciare le patate velocemente un'altra un'altra fenomeno che ha scoperto l'acqua calda e poi perde l'iphone nell'oceano e lo ritrova insomma ecco quando uno a culo a culo non c'è niente da fare io ho perso un anello una volta nell'oceano sì nel mar della Sardegna c'era una tipa attaccata o hai perso il dito proprio sì 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 Grazie a tutti 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 Vediamo Grazie a tutti 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 Grazie a tutti